Una cosa che possiamo aggiungere sulla serie di mengoli è possiamo generalizzare il caso a una tipologia di serie che si chiama appunto serie telescopiche, come è fatta una serie telescopica, noi abbiamo la successione B con N, poi abbiamo la successione A con N definita in questo modo, B con N meno B con N più 1, questo per ogni N appartiene a E, quindi A con 1 è uguale a B con 1 meno B con 2, A con 2 è uguale a B con 2 meno B con 3, A con N sarà uguale, ripeto, a B con N meno B con N più. Adesso quando andiamo a fare la somma parziale S con N, cioè somma per K che va da 1 a N degli A con K, cioè A con 1 più A con 2 più puntini puntini più A con N, quando andate a sommare in colonna qui, a sinistra ottenete S con N, a destra cosa ottenete? B con 2 meno B con 2 si semplifica, B con 3 meno B con 2 si semplifica, B con N meno B con N si semplifica, quindi rimarrà proprio B con 1 il primo pezzo, diciamo, il sottraendo del primo termine meno il minueto dell'ultimo termine, quindi rimarrà B con 1 meno B con N. Adesso per calcolare la somma della serie bisogna far tendere N a più infinito e allora la somma della serie esiste qualora il limite di B con N faccia 0 se il limite di B con N fa 0 sicuramente cosa mi rimane quando faccio tendere N a infinito? il limite di B con 1, cioè il primo pezzo della prima differenza, che è esattamente il discorso che avevo nella serie di mengoli, nella serie di mengoli avevo A con 1 era uguale a 1 meno un mezzo, A con 2 era uguale a un mezzo meno un terzo, in generale A con N era uguale a 1 su N meno 1 su N più 1 e la somma degli A con N per N che qua è da 1 a infinito faccio la 1, ok? quindi questo schema è in generale, una serie che è costruita in questo modo si chiama telescopica cioè i termini della serie sono differenze, si ottengono tramite le differenze dei termini successivi di una successione, degli elementi successivi di una successione, in questo modo allora se la successione tende a 0, sicuramente la somma della serie è uguale a B con 1 una serie, perché si chiama telescopica? Perché è un po' come quando noi prendiamo un'antenna telescopica e schiacciamo tutto, qui si semplifica tutto e rimane solo il primo pezzo ok? Quindi qua, questo appunto, sono le serie telescopiche gli esempi di serie in cui siamo in grado di calcolare in maniera esatta la somma vedremo, per adesso saranno pochissimi, praticamente in analisi 1 conosceremo soltanto la somma della serie geometrica e la somma delle serie telescopiche poi vedremo, in analisi 2, altre somme, le somme di alcune serie numeriche ottenute dalle serie di Telo e alcune delle serie di Fourier però, non è in generale che se io ho una serie, anche se la serie converge alla somma si possa calcolare agevolmente è chiaro? ci interessa piuttosto sapere quali sono le condizioni affinché una serie converga questo è il nostro vero scopo non è calcolare la somma è sapere se la serie converge o no allora andiamo a stabilire queste condizioni o alcune di queste condizioni ok? a volte sarà più facile, a volte sarà più difficile cominciamo a stabilire una condizione necessaria e questo vale per qualunque tipo di serie quindi abbiamo la nostra serie la proposizione abbiamo somma per n che va da 1 a infinito di a con n supponiamo che questa converga allora che cosa diciamo implica cioè qual è una condizione necessaria per la convergenza è che il limite di a con n è che il limite di a con n deve fare z cioè si dice condizione 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 necessaria affinché affinché una serie sia convergente è che la successione dei termini quindi sia infinitesima vedete questa successione infinitesima nel senso che tende a z quindi se gli addendi vi ricordo che gli addendi nella serie si chiamano termini se gli addendi sono infinitesimi se i termini sono infinitesimi può darsi che la serie converga se gli addendi non sono infinitesimi sicuramente la serie non converga allora vedete l'implicazione va solo in questa direzione l'altra implicazione in generale non è vera cioè se gli addendi sono infinitesimi se i termini sono infinitesimi ci sono alcune serie che sono convergenti altre serie che non sono convergenti allora dimostrazione allora noi sappiamo che il limite di s con n fa s se la serie converge il limite è un limite finito poi sappiamo anche che il limite di s con n-1 fa sempre s chi è s con n-1? è la stessa successione di prima semplicemente n lo fate partire da 2 allora chi sono i primi termini di questa successione? s con 1, s con 2, s con 3, s con 4 chi è s con n-1? s con 1 s con 2, s con 2, s con 2 è la stessa successione quindi semplicemente ho voluto disallineare gli indici però io so che questa disallineare la dipendenza la dipendenza da n diciamo disallineare gli indici allora siccome questo tende a s questo tende a s io che cosa so? so che se faccio la differenza di queste due successioni deve tendere a 0 quindi quindi il limite per n che tende a più infinito di s con n meno s con n-1 è uguale a 0 ma questo limite chi è? è il limite se vi ricordate s con n-1 è la somma dei termini della successione fino a n s con n scusate s con n-1 la somma lo scrivo per le stesse facciamo bene a con 1 più a con 2 più più a con n meno a con 1 meno a con 2 meno a con n come vedete a con 1 meno a con 1 con 2 meno a con 2 e così via se ne vanno l'unico termico che sopravvive è a con n quindi questo è il limite di a con n che deve essere uguale a s meno s che fa? non può essere che la successione delle somme parziali converga senza che la differenza tra due somme parziali successive tenda a 0 quindi la differenza tra due somme parziali successive tende a 0 ma la differenza tra due somme parziali successive è il termine a con n da queste due somme e a con n e quindi a con n deve tendere a 0 per forza per vedere che viceversa non è vero basterà portare due esempi somma per n che va da 1 a più infinito di 1 su n dimostreremo che diverge positivamente questa si chiama serie armonica questa è un'altra serie importante da conoscere questa qua diverge mentre invece dimostreremo che la somma per n che va da 1 a più infinito di 1 su n4 per esempio questa qua addirittura si conosce anche la somma però noi non saremo in grado di calcolare la somma la somma la calcolaremo in analisi 2 tramite le serie di furie però la cosa importante è che questa qua invece converge allora voi vedete che chi è il termine generico di questa somma? è 1 su n il termine generico è infinitesimo? sì la serie converge? no il termine è infinitesimo ma in quest'altro caso il termine pure lui è infinitesimo ma in quest'altro caso è la serie converge quindi vedete che avete due esempi in cui termine generico è infinitesimo in un caso la serie converge in un altro caso la serie converge ora questi due comportamenti li dimostreremo in seguito non lo facciamo adesso li sto enunciando li sto portando adesso per farvi capire che non è detto che se il termine è infinitesimo la serie di parco converge però la dimostrazione che questa diverge e questa invece converge la faremo più ok allora adesso introduciamo le serie a termini di segno costante serie a termini di segno costante a con n maggiore uguale o di a con n per comodità li prendiamo tutti positivi se fossero tutti negativi si mette in evidenza un meno e non cambia nulla insomma cambia soltanto il fatto che si moltiplica tutto per meno 1 cambia tutto di segno insomma cambia di segno ma i ragionamenti rimangono quindi una serie si dice a termini di segno costante non negativo quando i termini sono tali che sono tutti dello stesso segno ora perché è importante un caso del genere? perché semplifica molto la tipologia del comportamento della serie cioè che comportamenti potete avere? se vi ricordate una serie può avere 4 tipi di comportamenti può convergere poi può oscillare e oscillare ha 4 tipi di possibili comportamenti prendiamo una serie di questo tipo qua che può fare? che può fare? fogo merge oppure che può fare? diverge come? altra non può fare, per quale motivo? s con n più 1, chi è? è s con n più a con n più 1 cioè quando io vado a fare le somme parziali s con n ho sommato tutti i termini fino ad a con n quando vado a calcolare la somma parziale successiva come prima, la s con n meno s con n meno 1 lo faceva con n, s con n più 1 fa a con n più 1 quindi in questo caso, cioè se i termini sono tutti non negativi cosa posso concludere? posso concludere che è più grande s con n quindi la successione s con n è una successione non negativa e monotona non decrescente cioè il concetto è, se continuo ad aggiungere cose non negative le somme parziali non decrescono ora, una successione del genere ce l'ha il limite? si, per il termine di regolarità delle successioni monotone più precisamente o il limite è finito oppure più infinito quindi una successione a termini di segno non negativo è molto più semplice strutturalmente di una successione a termini di segno variabile perché se il segno è non negativo la successione delle somme parziali non può fare altro che aumentare o non diminuire e quindi quando passo al limite questo qua è uguale all'estremo superiore degli s con n allora due sono i fatti o l'estremo superiore è finito oppure è più infinito ovviamente ovviamente questo qua sarà un numero positivo non negativo perché è somma di quantità non negativa l'estremo superiore delle somme parziali che sono tutte non negativa è chiaro? quindi da questo punto di vista da questo punto di vista il comportamento di una serie a termini di segno costante è molto più semplice perché invece di scegliere tra quattro opzioni ce ne abbiamo soltanto due o con meggio o diverso molto spesso vi verrà chiesto in una serie a termini di segno non negativo semplicemente se converge o diverge allora uno dice vabbè allora se rispondo converge o diverge in metà dei casi c'ho secco quindi in metà dei casi ho fatto bene l'esercizio no non funziona così nel momento in cui mi dite questa serie converge o questa serie diverge e mi dovete spiegare perché vi dovete spiegare in classe il ragionamento perché converge o perché diverge anche se sapete che a termini si ovviamente se il ragionamento è fatto bene però vi siete bigliati nel ragionamento quindi avete scritto soltanto la conclusione errata ma gran parte del ragionamento è fatto bene comunque varrà qualcosa invece se mi dite la cosa giusta ma me lo dite sulla base del ragionamento completamente sballato non vale niente quindi certe volte anche diciamo dire comportamento sbagliato ma in base a un ragionamento corretto che poi verso la fine uno si è bigliato vale sicuramente di più di dire anche la cosa giusta ma per un ragionamento completamente errato ok allora quindi è chiaro adesso i punti devono essere chiari facciamo un riassunto finora ci interessano massimamente le serie convergenti prima di tutto cos'è una serie? una serie abbiamo detto è il limite delle somme parziali ma sostanzialmente questo concetto nasce per dar senso a una somma di infiniti addendi che chiamiamo termini quindi bisogna fare una somma infinita allora come si fa la somma infinita? si fanno le somme parziali e si fa il limite se il limite esiste finito la sede è sommabile con una gente quindi questo è il punto di partenza molto spesso noi non vogliamo sapere la somma questa somma poi e poi capiremo perché non vogliamo sapere la somma perché la somma la può fare pure il computer ok? però il computer se non lo aiutate sapendo che la sede sia convergente o no ha dei problemi a capire se è una serie convergente non ha problemi nel momento in cui conosciamo la somma e conosciamo alcune stime a calcolarla con molte cifre decimali ma invece ha grossi problemi a capire se è una serie convergente chiaro? quindi molto spesso a noi non servirà stabilire se è una serie la somma di una serie ma semplicemente se è una serie convergente o non convergente in particolare per esempio a tema di segno costante questa è una dicotomia cioè o convergente o divergente così dire ok? e adesso cerchiamo di capire perché questo è un problema vi ricordate questa serie qua la serie armonica abbiamo detto che è divergente questo perché? se io faccio la somma per k che va da 1 a n di 1 su k questo mi fa circa vedremo poi perché mi fa circa logaritmo n allora nel momento in cui conoscessimo questa stima è chiaro che il logaritmo n per n che tende a più infinito tende a più infinito poi faremo una dimostrazione formale che questa diverge tuttavia supponiamo di non sapere a priori che questa diverga e di voler fare la somma con il computer allora noi col computer possiamo fare solo delle somme parziali il punto è quando ci fermiamo? allora supponiamo che io faccia la somma per k che va da 1 a 10 alla 9 di 1 su k perché dico vabbè dopo 10 alla 9 nella mia calcolatrice questo piglia 0 questo quanto mi farà circa? mi farà circa logaritmo di 10 alla 9 ma 10 alla 9 è circa 2 alla 30 perché 10 alla 3 è 2 alla 10 maggiore di 2 alla 10 e questo viene circa 30 per il logaritmo naturale di 2 che è 0,7 viene circa un po' più grande di 21 quindi quindi se voi fate la somma di un miliardo di questi termini state a 21 vi dà l'idea di una cosa che diverga? se sta a 21 non mi sembra tanto che è diverso invece diverso allora uno dice vabbè fatti più là io ho matlab matlab mi fa i conti fino a 10 l'epsimo macchina è 10 alla meno 15 quindi posso fare i conti in questa somma fino a 10 alla 15 ora qua cosa viene? viene il logaritmo naturale di 10 alla 15 cioè che fa circa 5 per 7 fa circa 35 36 allora arriva quello con matlab e dice ma sai ho fatto la somma fino a 10 alla 15 e mi è venuto 35 36 confrontate poi vai a vedere 2 per 10 alla 15 vedi che non si sposta quasi niente e alla fine invece di stare a 35 stai a 35 7 sai che c'è? questa qua commeggerà e pensi che commeggerà questa diverge cioè ve ne posso fare altri esempi in cui facciamo un altro esempio se io vado a fare questa somma qui somma per n che va da 2 a più infinito di 1 fratto n logaritmo n anzi per k che va da 2 a n di 1 fratto k logaritmo k questo qui viene circa poi vedremo perché viene logaritmo di logaritmo di n è fate attenzione che se qua ci metto 10 alla 15 qua non mi viene 35 mi viene logaritmo naturale di 35 viene un numero bassissimo anche se ci metto 10 alla 50 questa sembra che non sia spostata per nulla eppure quando n tende a più infinito questo che fa? tende a più infinito allora l'argomento tende a più infinito e logaritmo tende a più infinito quindi questa divergerà come prima quindi ci sono delle serie che pur divergendo queste due sono tutte e due serie a termine di segno costante pur divergendo divergono talmente lentamente che praticamente non avete speranza di far decidere al computer se diverte ugualmente non se il computer non si è equipaggiato di una certa intelligenza artificiale per capire teoricamente le serie non solo dal punto di vista di calcolo non è guardando le somme parziali che mi accorgo che diverge che diverge la serie ma me ne accorgo facendo un ragionamento allora se io faccio un certo ragionamento saprò se la serie diverge o no ma dice e vabbè ma se converge come faccio a sapere quante somme parziali devo fare? adesso facciamo quest'altro ragionamento adesso andiamo a vedere che questa converge per una serie a termine di segno costante scrivere che è convergente si scrive minore di più infinito fate attenzione questo tipo di simbolo minore di più infinito non ha senso per una serie di segno a termine di segno variabile ha senso solo per una serie a termine di segno non negativo perché il presupposto che significa minore più infinito che non diverge e quindi converge ma la dicotomia diverge converge vale solo se la serie a termine di segno non negativo altrimenti i comportamenti erano 4 se una serie oscilla mica si può dire che la somma è minore più infinito la somma non c'è proprio quindi questo discorso vale si può usare questa simbologia qui per dire che è una serie converge ma solo per le serie a termine di segno non negativo questa è una serie a termine di segno non negativo se scriviamo minore più infinito vuol dire il commento come facciamo a dimostrare questa cosa? allora facciamo un po' di osservazioni che ci porteranno via io resto penso dell'ora se abbiamo 20 minuti bastano giusto per fare questa osservazione e dire e dire allora la prima osservazione è questa supponiamo di avere una serie questo vale per qualunque serie anche se i termini non sono disegna un po' stati io posso scriverla così posso scriverla come somma per n che va da 1 a ni degli a con n più somma per n che va da ni più 1 a più infinito degli a con n allora questo chi è? questo chi è? cioè l'idea è se io li devo sommare tutti i primi ni me li metto da parte e poi parto da di più 1 in poi quindi la somma dei primi ni chi rappresenta? come si chiama? ecco che indice? indice ni quindi s con ni questa è la somma dei primi termini quindi fino ad arrivare a ni quindi questa è la s con ni questo invece si chiama per definizione r con ni cioè resto ni esimo e non è una somma è una serie allora questa uguaglianza significa la mia serie di partenza converge se solo se converge il suo resto ni esimo allora diciamo che questa somma s la somma di per n che va da ni più 1 a infinito degli a con n è uguale a r con i allora effettivamente s è uguale a s con i più r con i cioè la somma di una serie è uguale alla somma parziale ni esimo più il resto ni esimo nel senso che se questa converge converge pure questa se questa converge converge pure questa se non converge l'uno non converge mai con l'altro è chiaro? quindi la serie si dice una serie è convergente se e solo se quindi converge il suo resto n esimo però n quindi quindi io posso allora l'idea qual è? l'idea è io vi faccio una somma parziale e poi invece di sommarmi tutta la serie vi sommo soltanto il resto nesimo perché è importante questo? perché si possono fare delle stime e capire quando è che il resto nesimo ha una somma che possiamo trascurare oppure che possiamo approssimare niente andiamo a fare l'esempio l'esempio a sviluppare questo caso uomo ok? allora cancelliamo qui dietro e allora andiamo a fare questa osservazione 1 su n quadro è più grande anzi è maggiore stretto di 1 fratto n per n più 1 per quale motivo? se una n l'ho lasciato uguale se al posto dell'altra n ci metto n più 1 il denominatore aumenta la frazione è diminuente d'altro canto è minore di 1 fratto n per n meno 1 tutto questo vale se n è da 2 in poi cioè o meglio la disuguaglianza di sinistra vale sempre la disuguaglianza di destra se qua ci metto 1 qua 1 meno 1 fa 0 non si può fare la frazione ma per n maggiore uguale io dico e queste disuguaglianze hanno perfettamente sempre allora andiamo a vedere il resto nesimo di questa serie cioè andiamo a scrivere la somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n quadro allora questa mi farà la somma fino a n più r con n ma r con n non è altro che la somma per n che va da n più 1 a più infinito di 1 su n quadro ok? allora andiamo a vedere siccome il n io in genere lo prenderò abbastanza grande sicuramente il n sarà più grande di 2 quindi io posso scrivere 1 su n per n più 1 sarà minore di 1 su n quadro minore di 1 su n per n meno 1 per ogni n maggiore di n quindi da n più 1 in poi allora se questo è vero questo è vero beh è chiaro che se io adesso vado a fare la somma per n che va da n più 1 a infinito di questi cosa ottengo? un risultato minore che se sommo questi e ottengo un risultato minore che se sommo questi cioè anche quando si fanno le serie sommando cose più grandi le somme parziali saranno più grandi e le somme saranno più grandi ora vi faccio notare che questo chi è? questo è 1 fratto n più 1 perchè? questa serie qui non è altro che il resto n esimo della serie di mengoli cioè questa qua se la andate a scrivere il primo termine è 1 fratto n più 1 per n più 2 il termine successivo è 1 fratto n più 2 per n più 3 ma il primo termine allora questa qua chiamiamolo a allora a è uguale a 1 fratto n più 1 meno 1 fratto n più 2 più 1 fratto n più 2 meno 1 fratto n più 3 più eccetera cioè è una serie delle scopiche che ha la stessa struttura di quella di mengoli che semplicemente non inizia da 1 ma inizia con 1 fratto n più 1 quindi questo qua fa 1 fratto n più 1 e quest'altra invece beh è lo stesso tipo perchè questa qua quando ci metto n più 1 fa n per n più 1 sotto quando ci metto n più 2 fa n più 1 per n più 2 quindi sono i stessi termini di prima ma con un termine in più b se andate a vedere è 1 fratto n meno 1 su n più 1 più 1 su n più 1 meno 1 su n più 2 così via quindi ha la stessa identica struttura è sempre la serie di mengoli semplicemente è stato sfalzato c'è un termine in più siccome insomma se n più 1 lo chiamo m questa m e questa m più 1 però m parte da n non parte da n più 1 quindi la somma fa 1 su n perchè è una serie anche questa che risponde a allora io che cosa so? so che la somma di questa serie deve stare in mezzo tra questi due valori lo formalizzeremo meglio questo ragionamento perché questo per adesso è solo un esempio poi scriveremo il termine il teorema di confronto però questo era r con i io so che r con i è compreso tra 1 su n più 1 e 1 su n allora allora facciamo un esempio facciamo un esempio facciamo un esempio per capirci sempre in questo caso qui quindi se io vado a fare la somma per n che va da 1 a più infinito più 1 su n quadro questo è uguale a 1 più la somma per n che va da 2 a più infinito di 1 su n quadro cioè il primo termine lo scrivo a parte e questo è quello che abbiamo chiamato r1 che sono i termini che partono da con l'indice maggiore di 1 ma r1 noi sappiamo che è compreso tra un mezzo e 1 se metto n uguale a 1 quindi cosa ne deduciamo? ne deduciamo che quando andiamo a fare la somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n quadro questa qua è compresa tra 1 che era s1 più r1 che è maggiore di un mezzo e 1 più r1 è meno di 1 quindi 1 più 1 quindi da qui viene 3 mezzi e da qui viene 2 ok? quindi questo ragionamento mi dice che io facendo un ragionamento molto semplice ho dimostrato che la somma di questa serie qui esiste cioè la somma è convergente la serie è convergente e la somma è compresa tra 1 da basso e 2 da basso lo faccio un po' per esteso così così lo capite ancora meglio perché chi non è abituato a lottare con gli indici chi è la nostra serie S la somma della nostra serie è 1 più un quarto più un nono più un sedicesimo più un venticinquesimo eccetera eccetera quindi devo fare la somma di tutti i termini del tipo 1 allora l'1 me lo metto a parte poi qui che cosa vado a dire? vado a dire che vado a dire che un quarto è minore di un mezzo ed è maggiore di un sesto ricordate i termini successivi della serie di mengoli un mezzo un sesto un dodicesimo questo è minore di un sesto ed è maggiore di un dodicesimo quello successivo è minore di un dodicesimo ed è maggiore di un ventesimo perché questo è 4x4 12 è 3x4 questo è 4x5 quindi è chiaro che quando il denominatore aumenta diminuisce eccetera quando vado a fare la somma lo vedete che se lo faccio di sopra otterrò sono tutti i termini maggiori e otterrò un risultato maggiore ma allora di sopra chi è? è 1 un mezzo più un sesto più un dodicesimo eccetera è proprio la somma della serie di mengoli ma la serie di mengoli faceva 1 1 più 1 in totale fa 2 quella di sotto invece non fa cosa ci manca? il primo termine ci manca un mezzo che incomincia da un sesto un sesto più un dodicesimo più un ventesimo eccetera eccetera non farà 1 ma farà un mezzo perché? perché ci manca il mezzo iniziale quindi di sotto viene 1 più la somma della serie di mengoli meno il pezzo iniziale che faceva un mezzo quindi un mezzo e farà 3 mezzi ed s sarà minore sarà minore di 2 e maggiore di 3 mezzi s deve stare in mezzo ok? quindi questo ragionamento innanzitutto ci dimostra che quella serie converge non solo che la sua somma è compresa tra 3 mezzi e 2 chiaro? la somma vera dimostreremo poi in analisi 2 che fa pi greco quadro sesti se voi fate pi greco quadro sesti pi greco quadro è maggiore di 10 è maggiore poco più grande di 3 mezzi ma è minore di 2 pi greco quadro sarà tra 10 e 11 mi pare eh? mi pare eh? mi pare eh? mi pare eh? no va 9,87 quindi poco minore di 10 però sempre maggiore di 3 mezzi perché compreso tra 9 e 10 sarà compreso tra 9 sesti e 10 sesti quindi tra 3 mezzi e 10 ok la somma vera però noi cosa sappiamo? sappiamo che compresa tra 3 mezzi e 2 infatti è 2 se però volessi calcolare questa se volessi calcolare questa quante cifre decimali vogliamo? diciamo vogliamo 12 cifre decimali ok? allora proviamo a fare allora s a chi è uguale a s n più r n ma r n quindi s è uguale a s con n più r con n è compreso tra s con n più 1 su n e tra s con n più 1 su n più 1 perché vi ricordate prima avevo questo cavernier adesso se prendo questi due numeri qua questo chiamiamolo b n questo chiamiamolo a n questa è una stima dal basso e questa è una stima dall'alto della mia s adesso se vado a fare la differenza questa viene 1 su n meno 1 su n più 1 che viene 1 fratto n per n più 1 che è circa 1 su n quadro almeno se n è molto grande ok? allora se io voglio che questa differenza sia minore di 10 alla meno 12 mi deve essere maggiore di 10 alla 6 perché il quadrato di 10 alla 6 è 10 alla 12 messo al denominatore se è più grande di 10 alla 12 vuole il minore di 10 alla meno 12 quindi se voglio 12 cifre decimali io basta che faccia la somma fino all'indice 1 milione e dice ma te la devi fare a mano no lo faccio fare al calcolatore però attenzione attenzione che non è s con i che mi approssimo a s sono questi due numeri qua s con i più 1 su ni più 1 ed s con i più 1 su ni dall'altro quindi le mie disuguaglianze quando ho visto che insomma questa disuguaglianza questa fa sì se io qui di sotto ci mettevo soltanto 0 e allora per sapere per avere un'approssimazione con 10 alla 12 qua avrei dovuto sommare 10 alla 12 termini perché sotto c'erano 0 e se qua ho 0 la mia somma la mia approssimazione adesso è peggiore perché la differenza fa la 1 su ni che sarà minore di 10 alla meno 12 se solo se ni è maggiore di 10 alla 12 però fare su un computer una somma di 10 alla 12 termini e una somma di 10 alla 6 termini è molto diverso diciamo se la somma di un minore di termini di questa serie il computer me la fa in un decimo di secondo e 10 alla 12 me la farà come minimo in 100 mila secondi 100 mila secondi sono parecchie ore quindi io avendo una stima accurata sia dal basso che dall'alto sono in grado sono in grado non solo di sapere questa serie con me non solo di calcolarmela di calcolarmela se ho a disposizione con un computer con una certa approssimazione molto buona ma sono in grado di farlo anche con pochi calcoli se ho fatto degli opportuni ragionamenti quindi attenzione il computer ti deve aiutare a fare i calcoli ma sei tu che devi aiutare con i ragionamenti il computer a fare meno calcoli perché ripeto se io da qua maggiore con 0 la maggiorazione è giusto uguale soltanto che per avere una stima mi diciamo opportuna della mia in realtà quando io dico che qua è compreso tra s con i più 1 su ni e s con i più 1 su ni io semplicemente sto dicendo che è molto vicina a s con i più 1 su ni se io ci metto per esempio supponiamo che ni sia 10 alla 6 allora questo sarà tra s 10 alla 6 più 1 su 10 alla 6 e tra s su 10 alla 6 più 1 su 10 alla 6 su 1 milione e 1 quindi vuol dire che quando vado a fare la mia s e la mia s sarà molto se qua ci toglievo e ci mettevo 0 era vera la disuguaglianza soltanto che tra i due estremi stava molto molto vicino all'estremo di destra chiaro? ok 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 però ci basta grazie 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 grazie